Un nisce mese di 40 anni è stato arrestato e condotto agli arresti domiciliari dai poliziotti del commissariato di Niscemi in quanto accusato di avere incendiato un'auto in attesa di riparazione parcheggiata nel piazzale della stazione ferroviaria. Era il 10 giugno scorso, secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti le fiamme si erano propagate investendo altri tre veicoli parcheggiati nelle vicinanze e quindi il rogo assunse proporzioni maggiori. Sulle prime non era stato possibile individuare il responsabile ma dopo diversi mesi di accertamenti gli investigatori hanno trovato il bandolo della matassa. Decisive anche le riprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza posizionate nella zona dell'accaduto e anche nelle vicinanze. Una volta raccolti quanti più elementi possibili la procura ha chiesto al GIP del Tribunale di Gela di disporre un provvedimento cautelare che è stato eseguito dalla polizia.